In parte Migration Conference, io però voglio vedere poi come si sviluppa, voglio vedere i progetti dove vengono indirizzati, voglio vedere gli accordi con chi vengono fatti, voglio vedere se accanto ad una politica di cooperazione, di sviluppo e di crescita in quei paesi c'è anche una seria politica ad esempio di controllo dei confini, di controllo delle frontiere, accordi di riammissione, perché vogliamo ricordarlo che il nostro paese che ha una grave responsabilità, questo governo ha una grave, questo governo la sinistra, perché non dobbiamo negarci il fatto che dal 3 ottobre 2013, giorno in cui a largo di Lampedusa affonda un barcone dove muoiono 366 persone, da quel giorno in poi ci siamo raccontati tante cose ma la situazione non è assolutamente cambiata, oggi siamo esattamente al punto in cui eravamo tre anni fa per una responsabilità chiara da parte del nostro governo e per una responsabilità, Manuele Fiano che è persona onesta e corretta l'ha detto, per una grave responsabilità fallimentare delle politiche europee, quindi cosa bisogna fare? Bisogna invertire queste politiche che hanno da un lato prodotto i numeri di morti che abbiamo appena detto, dall'altro lato creato quello che io chiamo la multinazionale del crimine, tutto questo fenomeno che porta alla gestione della tratta degli esseri umani, fattura purtroppo all'anno 6 miliardi di Euro, genera sul nostro territorio il business dell'immigrazione clandestina o dell'accoglienza, perché ricordiamo i cittadini italiani ci stanno ascoltando che l'anno scorso il governo italiano ha speso 3,3 miliardi di Euro e nel 2016 in istanzia 4 miliardi di Euro per alimentare questo grande fenomeno, rispetto al quale ci sono ombre, rispetto al quale ci sono delle inchieste a percae. Non sono tutti criminali, sono 4 miliardi riversati sul lavoro italiano. Se qualcuno mi dice che l'immigrazione è una ricchezza, una risorsa per il nostro paese, sino ad oggi è stata una ricchezza soprattutto per chi ha fatto dell'accoglienza, per alcune cooperative, bianche, rosse, gialle, per alcune Orlus, per la Caritas che hanno lucrato e speculato, lo dico in maniera estremamente chiara, lucrato e speculato su questo grande business, Orlus che fino al giorno prima facevano tutt'altro, che dal giorno dopo hanno incominciato a gestire questo grande fenomeno.